Luci! Thomas Edison. Ho talmente tante idee che mi servirebbero 12 vite per realizzarle. Ora sto lavorando a qualcosa che cambierà il mondo intero. Comunicazioni, trasporti. Diventeremo grandi, grandissimi! Ogni impresa ha i suoi avvoltoi. Sono George Westinghouse. Posso fare lo stesso col gas. Signore e signori, Nikola Tesla. Qual è il tuo lavoro? Risolvo problemi per idioti. Edison Electric Company. Westinghouse Electric Company. La sua corrente uccida le persone! Questo è quello che dici tu, Thomas! Chi controllerà quella corrente... ...controllerà il futuro. Il mondo non sarà più lo stesso. ... ... ...